fino a quando non hai amato un animale una parte della tua anima sarà sempre senza luce in questi pochi minuti in attesa di paolo russo dedico questo ai nostri amici a quattro zampe ci sono anche loro su questo pianeta questo pianeta martoriato da ormai religioni odio dovremo morire tutti un giorno tutti ma tutti non ce n'è uno che si salva non ce n'è uno che sarà immortale saremo polvere e mangime per i vermi le nostre ossa poi o bruciate o saranno messe insieme ad altre ossa per cui non sapremo neanche dove andremo a finire mi viene da ridere pensare che ammazziamo tra di noi un cane parla ad un umano umano vedo che stai piangendo perché è arrivato il mio momento non piangere per favore ti voglio spiegare alcune cose tu sei triste perché me ne sono andato ma io invece sono felice perché ti ho conosciuto quanti come me ogni giorno muoiono senza aver conosciuto qualcuno di speciale a volte abbiamo la grande fortuna che tra le tante persone passa un angelo e ci raccoglie a volte gli angeli vengono in gruppo a volte ci sono altri angeli lontani che inviano tanti aiuti per noi e questo cambia tutto se necessario ci portano da un altro tipo di angelo che ci cura ci scelgono una parola che pronunciano ogni volta che ci vedono un nome penso si chiami così questo indica che siamo speciali abbiamo smesso di essere anonimi per essere uno dei tanti ma anche un po di voi da qui capiamo che quella è una casa riuscite a capire quanto questo è importante per noi non dovremo mai più avere paura freddo fame o sentire male se solo poteste calcolare quanto ci fa felici non ci interessa più se piove se passerà una macchina molto velocemente o se qualcuno ci farà del male ma soprattutto non siamo soli perché nessun animale gradisce la solitudine cosa si può chiedere di più so che tira triste la mia partenza ma ora devo andare promettimi che non vi asimerai te stesso ti ho sentito dire che avresti potuto fare di più per me non dirlo hai fatto molto per me senza di te non avrei conosciuto niente di tutta la bellezza che porto con me oggi devi sapere che noi animali viviamo il presente godiamo di ogni piccola cosa di tutti i giorni e dimentichiamo il passato se ci sentiamo amati le nostre vite cominciano quando conosciamo l'amore lo stesso amore che tu mi hai donato il mio angelo senza ali ma con due gambe voglio che tu sappia che se trovi un animale gravemente ferito e che gli resta poco tempo farai un grande gesto se gli starai accanto accompagnandolo nel suo passaggio finale perché come ti ho detto prima a nessuno di noi piace star solo ancor meno quando ci rendiamo conto che è arrivato il momento di andare forse per voi non è così importante avere qualcuno al vostro fianco che vi sostiene ci aiuta ad andare con serenità ma ora non piangere più per favore io sarò felice mi ricordo il nome che mi hai dato il calore della vostra casa che è diventata anche la mia io mi ricordo il suono della tua voce quando parlavi con me e anche se non sempre capivo tutto quello che mi dicevi io lo porterò nel mio cuore insieme a ogni carezza che mi hai dato tutto quello che hai fatto è stato molto importante per me e io ti ringrazio profondamente non so come spiegarmi ora perché non parlo la tua lingua ma penso e spero che tu abbia visto la gratitudine nei miei occhi prima di andare ti chiedo due favori lavati il viso e cominci a sorridere ricordati che è bello vivere insieme qualsiasi momento anche questo ricordati delle cose che ci facevano felici e per cui ridevamo rivivi con me tutto il bene che abbiamo condiviso in questo tempo e non dirmi che non adotterai un altro animale perché hai sofferto troppo la mia partenza senza di te non avrei mai conosciuto le bellezze che ho vissuto quindi per favore non farlo sono in tanti che come me stanno aspettando qualcuno come te dai anche a loro quello che hai dato a me ne hanno bisogno come io avevo bisogno di te non conservare l'amore per poi donare non conservare l'amore che puoi donare per paura di soffrire se il mio consiglio valorizza quello che puoi dare a ognuno di noi perché tu sei un angelo per noi animali perché senza persone come te la nostra vita sarebbe ancora più difficile di come già a volte è seguito nobile compito ora sarò io il tuo angelo ti accompagnerò nel tuo cammino ti aiuterò a aiutare gli altri come me ora vado a parlare con gli altri animali che sono qui con me vado a raccontargli tutto quello che hai fatto per me e dirò con orgoglio questa è la mia famiglia il primo compito il mio primo compito ora è quello di aiutarti a essere meno triste quindi stasera quando guarderai il cielo e vedrai una stella lampeggiare sappi che quella stella sarò io che ti avviserò che sto bene e che ti ringrazierò per tutto l'amore che mi hai dato ora vado non dicendo addio ma a presto c'è un cielo speciale per persone come vuoi lo stesso cielo dove siamo noi e la vita ci ricompenserà facendoci ritrovare io sarò lì che ti aspetto a presto a presto Grazie a tutti 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 Radio Gamma 5 presenta I fiumi di Jane Un programma di Paolo Russo Grazie a tutti 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 E io Grazie a tutti Pronto Grazie a tutti 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 Noi siamo Grazie a tutti 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 Piero Grazie a tutti 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 Sogno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti